segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il video girato da daniela santa anche stessa la quale si lamenta diciamo è possibile arrivo a roma ma che immagine per i turisti vedere tutta questa fila questa fila di taxi adesso vi beccheremo anche il punto esatto in cui c'è la critica ci fa sorridere perché ovviamente essendo lei mi eccolo qua la coda per i taxi a rova termini bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella capitale lo dice sì perfetto chi l'ha fatto la schlein conte no il ministro del turismo e si è l'opposizione a se stessi diciamo beh questo tema è annoso è complicato è difficile da risolvere con una soluzione facile per esempio il tema dei taxi è che ci sono arrivano mille persone tutti insieme non ci saranno mai mille taxi tutti insieme a termini quindi a parte il fatto che bisogna trattare sulle licenze bisogna anche prevedere dei meccanismi di flessibilità in cui puoi avere che so delle licenze temporanee delle licenze raddoppiate solo che non si riesce a fare niente si arriva al muro contro muro si combatte sempre fra quelli che dicono i tassisti sono tutti ladri e quelli che invece vorrebbero mantenere lo monopolio invariato credo che questa immagine ci dica che devono intervenire però è assurdo che lo faccio da destra perché se c'è qualcuno che è andato con i megafoni al circo massimo a dire che si facevano le barricate non bisogna toccare nulla è stato proprio la vecchia alleanza nazionale in cui la santa anche era già deputata certe anni fa senaldi